Allora i ghimine ci dissero, parlano in testa, e gli uomini non volevano mai credere a chi ci avevano detto i ghimine. Sazzarono da chi lo davano e scoperciarono fuori. Lo volevano mai pigliare in giro, ma vedete che il pane è tutto nuovo. Allora i ghimine si misero a Ciancina e ringraziare Dio che l'abbia ripagato per tutto quello che avevano fatto durante la giornata. Ricordatevi tra la gente, oh signora ripaga sempre questa buona collage. Grazie di tutto e buon lavoro. Che Dio per i conferenzi. Vedrebbe significa proprio casa del pane. Dio volle che così fosse chiamata la città in cui doveva nascere il Messia. Colui che qualche anno dopo avrebbe proclamato Io sono il pane vivo, diceva la città. Io sono il pane della vita. Grazie.